Caccia d'intorni fa oggi tappa alla Steelcreen di Pavone Mella e siamo con Anastasia Rossini per parlare di questi kit, di questi accessori che servono per la pulizia delle vostre armi e dei vostri fucili. Intanto possiamo subito dire che sono accessori utilissimi, tutti li usano ma nessuno conosce magari come vengono fatti e come vengono realizzati. Allora ne parliamo con Anastasia che ci illustra intanto questi kit che abbiamo preparato. Anastasia allora questi sono kit per la pulizia delle armi? Sì, sono kit della pulizia per le armi. La pulizia è essenziale perché all'interno delle cartucce e delle munizioni ci sono delle sostanze che durante l'utilizzo subiscono delle reazioni chimiche e come risultato lasciano dei residui all'interno delle canne e in certe parti meccaniche. Se questi residui non vengono tolti in breve tempo possono causare dei problemi successivamente. Inceppamento? Inceppamenti e anche problemi di sicurezza. E anche problemi di sicurezza. Quindi possiamo appunto illustrare, fare vedere alcuni kit. Noi produciamo tutti i prodotti all'interno del nostro stabilimento qui a Pavone Mella. I vari modelli sono adattabili a tutti i calibri per fucili, per carabine, per pistole e ultimamente anche ci stiamo perfezionando sulle carabine militari. Ecco chissà perché uno quando vede dei kit, degli oggetti un po' piccoli pensa subito chissà dove vengono prodotti e arriveranno sicuramente dalla Cina. Assolutamente no, sono prodotti qui a Pavone Mella e la Stilcreen è l'azienda che li produce. Allora Anastasia andiamo innanzitutto a vedere cosa abbiamo preparato. Qui abbiamo solo alcuni degli esempi perché la vostra produzione è molto elevata. Mi dite 1.300... Noi abbiamo circa 130 modelli diversi come confezioni e poi i calibri sono innumerevoli veramente. Facciamo anche dei calibri particolarissimi su disegno perché i nostri... Circa 1.300 articoli insomma. Sì, esatto. I nostri macchinari ci permettono di poter eseguire anche dei prodotti molto specifici. Questo è un kit per la pulizia dei fucili. Esatto. Cosa abbiamo? Allora, questo è uno dei più completi. Abbiamo una bacchetta in legno, tre pezzi, quattro scovoli, lana, crine, acciaio e ottone. Abbiamo dei panni per la pulizia, dei salvapercussori che sono molto importanti per scaricare l'arma e quindi non danneggiare proprio i percussori. Abbiamo un porta pezzuola, un cacciavite per le piccole manutenzioni, un pennellino che può essere molto utile per spalmare il grasso o comunque anche l'olio nelle parti più, diciamo, più piccole. Esatto. Ed è confezionato in questo astuccio in ABS. Una valigetta molto comoda e pratica anche da portarsi appresso. Esatto. Poi invece passiamo ad un astuccio, diciamo, più elegante forse. Un po' più elegante che noi chiamiamo stile inglese proprio perché in Inghilterra c'è questa usanza di avere una bacchetta più scura, la lana bianca e gli scovoli in bronzo. Questo è sempre un astuccio finto legno in ABS. Anche questo di facile trasporto, quindi uno c'è un cacciatore, un tiratore, se lo porta appresso e quando ha finito di usare l'arma passa subito alla fase della pulizia. Qui invece abbiamo un kit più economico. Un kit più economico. Questo è per carabina perché la bacchetta è a tre pezzi, un diametro 5 mm, con tre scovoli, sempre il pennellino e sempre l'olio lubrificante spray. Non abbiamo solo l'olio, noi possiamo fornire anche solventi, grasso, brunitore e tutto quello che può essere utile per la pulizia. E qui invece abbiamo dei kit per pistola, questo qui comodissimo da viaggio, vedete come fosse uno spazzolino da denti, uno toglie tutto quello che deve estrarre, lo monta. Esatto, esatto, è praticamente tascabile, noi lo chiamiamo kit tascabile. E anche questi sono tutti per pistola? Esatto, in questo caso abbiamo un oliatore vuoto perché magari il cliente vuole inserire un suo solvente particolare oppure possiamo inserirlo anche pieno. Questo è invece confezionato in un blister? Esatto, questo è un esempio dei ricambi che noi forniamo, diamo i ricambi degli scovoli in qualsiasi calibro. E qui invece abbiamo un astuccio del tipo militare? Esatto, per far vedere un esempio dei nostri kit militari, come potete vedere la bacchetta è molto funzionale, è costituita da diversi pezzi per ottenere diverse lunghezze. Uno scovolo per una camera appunto militare e l'astuccio molto utile perché ha la clip da poter agganciare alla cintura. Maneggiare l'arma è importante, volergli bene è altrettanto importante volergli bene tenendola appunto curata con tutti questi prodotti per la manutenzione. Questo scovolo particolare che mi incuriosisce tanto, cos'è per un cannone? No, non è per un cannone, questo è un prodotto che stiamo testando per altri utilizzi perché appunto essendo produttori non ci fermiamo solo al kit di pulizia per armi, stiamo comunque muovendoci anche in altri campi per fronteggiare un po' questa crisi che c'è nell'aria. Prima di concludere un breve giro all'interno della Steel Cream per capire e conoscere alcune fasi della lavorazione. Grazie a tutti. Tante macchine a controllo numerico, torni, frese e quant'altro e qui invece siamo davanti a una macchina automatica che prepara appunto questi scovoli che sono appunto già praticamente finiti. Anastasia, come funziona questa macchina? Allora questa macchina come appunto lei ha già anticipato è completamente automatica, è il nostro fiore all'occhiello. Come potete vedere la materia prima viene presa direttamente dalle bobine, ad esempio il filo di ferro viene piegato, la lana viene presa dentro dalla macchina, viene inserita nel filo di ferro la lana, viene attorcigliata e si può dire che il prodotto è per il 90% finito. Io ho parlato di macchine a controllo numerico, anche nell'altra sala abbiamo visto dei torni in lavorazione, insomma c'è molta tecnologia alla base dei vostri prodotti. Sì perché puntiamo molto sulla produttività, sulla qualità, la nostra esperienza ci permette appunto di poter applicare la nostra conoscenza alla tecnologia e penso che questo sia il nostro punto di forza. Amici cacciatori, amici tiratori, vogliate bene alle vostre armi, la manutenzione come ha detto e come facciamo ribadire ad Anastasia è importante, è vero? Sì è importantissima, invito tutti a prendersi cura della propria arma per la sicurezza ma anche per un buon risultato della vostra caccia, del vostro tiro a volo o quel che sia. E mi raccomando di diffondere questa idea della caccia e del tiro a tutti i giovani perché è un bellissimo sport e è una passione importantissima. E poi la Steelcreen è un'azienda tutta italiana. Si conclude il nostro viaggio all'interno della Steelcreen, non ci rimane che ringraziare Anastasia Rossini che ci ha ospitato e l'invito rivolto a tutti voi è quello di aver cura delle vostre armi. Grazie a tutti.